What's up guys, eccoci ragazzi, facciamo una sorpresa, la nostra bellissima amica, io e lui, andiamo a trovare qui al negozio gelaterina, it's summertime, fa caldo ragazzi e dobbiamo rinfrescarsi un po' in questo momento, eccoci lì gelateria artigianale, dove ci troviamo? Che via? Via Valdipassa, vicino alla via Nomentana, eccoci, wow, buonissimi Guarda, guarda, per un momento non ce n'è nessuna ragazzi, ah bella, Leta, ti vedo, eccoci, facciamo pubblicità, ecco la nostra carissima amica, bella Grazie, grazie, come va? Che sei preparato, che sei preparato? Ah mamma mia, fai tutto te questa torta? Sì, wow, verissimo, guardiamo le torte ragazzi, oh madonna, tutto artigianale ragazzi, qual è il vostro preferito? Wow, wow, buonissimo, buonissimo Eccola la nostra carissima amica Leta, venite a trovarci Eccola la nostra carissima amica Il gelato è buono, eh? Un po' di gelato sportivo Pistachio Pistachio, cara Wow, my favorite La mia preferita E poi? Facciamo tre gusti Cocco Cocco E poi? E poi? Manca una, una, un gusto MMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMĞ Ho capito il bactamento Noccola, dai Ricote il pistachio Mamma mia, io sono amante di pistacchio Eccolo, buonissimo No, no, grazie, va bene così, cara Si mangia, grazie mille Mamma mia, mi reggi, per favore Mamma mia, stiamo facendo casino Eccoci, raga Tre gusti, pistacchio, coco E poi l'altro è sempre con pistacchio Non mi ricordo com'era Mamma mia, che buono, Leda È buonissimo Ebbene, voi assaggiudate Eccolo, buonissimo ice cream, raga Venite a trovarci qui Gelato artigianale Homemade, it's homemade, homemade ice cream Oh yeah Mmm Ma ma il fatto, hai ripreso anche i gusti Eh, sì Che sono spettacolari Il biscotto è buonissimo Mmm Che buono lì Che buono E quello è il biscotto all'Oreo È il biscotto all'Oreo È il biscotto all'Oreo È il biscotto all'Oreo Non ci possiamo spettacolare E poi, io ho preso 70% E poi 30% Dovevo prendere io 100% Ma mamma mia, sto facendo qualsiasi gioco Ehm Ancanzia? No Non c'è un biscotto No, non c'è un altro Che buono veramente Buono veramente, Leda Complimenti Grazie, grazie Mamma mia Non solo guardiamo la partita Sennò io non lo vedo Scusa Tutte le mattine Io qua Ma Il biscotto è buonissimo Senti il biscotto Ureo Questa parte qua Senti Buono E quanto è buono Sì Faccio vedere quanto è buono Sì Un esercino proprio Sì È la mia passione Mi piace Tatturare quei momenti Si vedi No Tu non hai passione Sì 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 andiamo a prenderci in gioco da Leda perché ci sono nati a Piazza di Roma quando fai pure torte perché Trampo è mio compleanno vogliamo prendere da te 29 giugno noi faremo lì al ristorante se l'avete qualche per mantenerlo nel congelatore devi chiedere dove va e poter riuscire io nel sì, questo qua è meno 18 poi una volta ero complica devi chiedere mi piace lasciare i pochi sporti io qua in questa zona ho proprio una storia ho visto le ragazze non è lontano da casa ragazzi noi siamo qui a prendere un gelato fa caldo ragazzi, venite qua che dici maestro? che se non fossi uno a dieta me ne mangerai altri due è troppo buono mangi un altro po' ciao ciao